Di recente mi ha chiamato un nostro amico, Frizz Il famoso amico Frizz Esatto, ve ne avete davvero, penso Amico Frizz Ho trovato, ho dato in pasta all'intelligenza artificiale E sta roba, ti assicuro che c'è questa roba Amico Frizz e Frizz da Cat Dice questa è la tua voce, mi ha detto Mi ha mandato la roba, effettivamente è la mia voce Cazzo Quindi vuol dire che sono stato Digitalizzato Non so se è per dire solo quelle parole che ho detto Che tra l'altro era una bestemmia, no scherzo Però è, sì, effettivamente È incontrollabile, ho fatto tanti dischi Magari ormai le a cappelle le tiri fuori Come vuoi, basta che, cioè se vuoi Eh però attenti salva il flow, comunque c'è troppo le detti Magari cantando, invece c'è rischio Uno che parla, però e basta Potrebbero farlo a Bonolis, a Pippo Baudo Tutta questa gente che parla Sì, proprio va regolarizzata questa cosa Nella musica invece tu puoi inserire La cappella, la Acap Lo spartito Scegliere la bassa, diventa un disastro È che tu puoi proprio dire Voglio questa canzone però con dentro queste parole Oppure Queste sono le parole ma voglio questa base La voglio cantata da quest'altro Sì, sì, sì Adesso banalmente è semplicissimo togliere E si fanno i soldi La voce da una canzone Campioni solo la base Che poi era la base del campionamento All'inizio era l'esatto opposto Cioè che ti prendevi il pezzo di musica Con quello che c'è No esatto, quello ormai è facilissimo È impressionante Però dico agli albori del rap I campioni erano Ti prendi questa parte di canzone Con tutto quello che c'è dentro Quanto influirà sul cantatù Sulla vendita del cantatù Tantissimo Non è tanto Ma anche sui soldi che faremo noi Perché comunque c'è gente Che ha fatto dei pezzi tecno Dove ha fatto fare una rima a Jay-Z Che non è lui E il pezzo ha fatto 200 milioni Jay-Z non ha preso niente Perché non è lui Quindi tu sei comunque venuto a ciucciare Qualcuno deve mettere dei punti No no ma infatti bisogna Vanno messi Ma registreranno la voce Cioè il timbro, la roba Se non arriva da me Non può funzionare Per funzionare magari troveranno un accordo Cioè lo vuoi usare comunque Mi dai le royalties Finito il film Nella stand up Jay-Z in qualche modo adesso Non appena Se non l'ha già fatto Lo sta facendo adesso Mentre ne parliamo Probabilmente Avrà trovato un modo Per legalizzare quella Certificare la sua voce A livello digitale Arriva e ti fa causa E gli devi dare il 100% Di quello che ha prodotto Ed è qui che arriviamo noi Che siamo la CIA Dell'Inter Cioè dobbiamo creare noi Questa roba Che tu depositi Di noi Il centro depositi Nella stand up C'è stato C'è stato Il primo caso Di una denuncia Perché delle persone Hanno fatto il nuovo special Di George Carlin Che chiaramente è morto Da 20 anni Quindi non è il nuovo special Di George Carlin E la voce è quella Io poi non l'ho ascoltato Perché appunto Cioè nel senso Per me queste cose Ma le battute in quel caso Erano scritte da Non lo so Non le ho Credo che È audio È un audio show Credo che Sì sì era audio E credo che anche il testo Lo scriva l'intelligenza artificiale Cavolo È la figlia di George Carlin Le ha denunciati Però da qualche parte Bisogna iniziare Sono felice che sia successo Ma voi da parte le cattate Un po' spaventa Questa cosa Della direzione Che sta prendendo L'intelligenza artificiale Di tutte le cose Che sta riuscendo a fare In ambito musicale E non Cioè di Che uno può scrivere Una canzone anche Allora c'è dei dati positivi E dei dati negativi Come in tutto Devi imparare a usarli Mi piacerebbe il fatto Che una volta che non trovo Una voce femminile Che mi canta un ritornello Posso farlo io Ok Così te ne vai a fanculo E basta Mi sono fatto la canzone Ho fatto quello che dovevo fare Ok Quello che volevo L'ho avuto Capito Però ad altro canto C'è sempre il fatto Che comunque nessuno Certissimo che tra poco Veramente non ci venga più Riconosciuto niente Ci sarà il dubbio Di che cosa è vero E cosa no La gente metterà in giro Delle canzoni Che potrebbero diventare Virali su TikTok Ma tu non le hai ancora fatte E allora Potrebbe diventare Un casino tutto Sì come in tutto Ovviamente poi Non è un processo Che avviene schioccando le dita E ancora È chiaro che serve Qualcosa di analogico Ok Non puoi sostituire Tutto Non puoi sostituire La persona Non puoi sostituire Il vissuto Che ti porta a scrivere Quella cosa Certo Ok Che sempre poi Io dico sempre Se scrivi bene Ma non sai rappare bene Scrivi un libro Nel senso Se hai delle belle cose da dire Ma non sai rappare bene Puoi anche scrivere un libro Ci sta Che tra l'altro Lo dici in una canzone È una rima È in pezzo È in pezzo E lo uso proprio come Come dire Un conto è scrivere le cose Ok Che siano delle belle parole Delle belle canzoni È un conto è rappare È l'unione delle due cose Che ti porta a essere poi Un artista E a fare questa cosa Questa cosa secondo me È imprescindibile Poi Che la tecnologia Può ingannare In qualche modo O può ovviare Anche al processo Che è sempre più rapido Adesso È meno difficoltoso Ok ci siamo Ma la sostituzione Prima di avere problemi veri Saranno La stampa I giornalisti Loro sono inculati Per sempre Le figure intorno All'arte in generale Pensate a tutti quelli Che scontornavano le cose Era un lavoro Ora lo fa Un'intelligenza artificiale Noi siamo L'arte è ancora autentica Eh sì Si assottiglia La parte Cioè Diventa che La parte in più Che puoi mettere tu È la parte autentica Di vita Diventerà che Chi sa usare bene L'intelligenza artificiale Sarà un artista Eh esatto Cioè devi avere quella parte Al servizio di uno Che lo comanderà Ho un amico Che lavora in Sky Parlavano delle questioni Pubblicità eccetera Il loro capo Li invita a riunione Gli fa vedere una pubblicità Dove a un certo punto Uno camminava tutto storto Era fatta con un'intelligenza artificiale Ma tutta intera Il video Gli attori C'era qualcosa da sistemare Il tipo camminava un po' male Ma era vera Ok E gli ha detto raga Sveglia Sveglia Madonna Sì Volendo essere ottimisti Non andrà assolutamente così Ma volendo essere ottimisti Questa roba paradossalmente Potrebbe aiutare appunto Potrebbe dare più valore Alle cose più d'autore Perché una canzone commerciale La puoi fare L'intelligenza artificiale La può fare Una canzone d'autore Però le robe È una banca dati Se nessuno di noi Ci mettesse dentro un cazzo Questa roba morirebbe oggi Verissimo Il problema è che se li prendono a forza Però i dati Mica i dati per la sua voce Li dirà dati lui Non hanno chiesto È quello il permesso Non ci sono permesso Esatto Non è regolamentato Però Se tu stesso Non vai a inserire niente Cioè qualcuno Che ha messo la voce di ieri C'è Capito Sì Io per esempio Chat GPT Non l'ho mai usato Perché la mia paranoia È ficcare dati Che ti cazzi mi hai In una banca dati Il giorno che Vorrò appellarmi All'aiuto E all'ausilio Della AI Vado da qualcuno Che ci smanetta Che ci ha infilato Tutti i cazzi suoi dentro E gli dico Aiutami a fare una roba E gli spiego la mia roba Ma io cercherò Di non mettere mai Un cazzo di mio pugno In una banca dati del genere È un discorso Spagnola Sulla testa Paranoico Posso evitare Io la mia roba Non te la do Basta Ma il fatto che Noi abbiamo già pubblicato Le nostre canzoni E sono già su YouTube Online Tutto quello che puoi trovare Al di là del fatto Che qualcuno L'idea di una copertina Vada a prendere Quella roba E la butta dentro È chiaro che c'è Del malsano Se vogliamo Sì ma è lo stesso infame Che la scarica Da quando io faccio uscire Un disco E poi la mette su YouTube Esatto Allora vaffanculo È Mixed by Harry Che si inventa la pirateria E lui dice Volevo solo fare il DJ Questo mica sapeva Che stava inventando La pirateria Mentre l'hanno fatto No L'hanno capito Strada facendo È vero Anche secondo me L'hanno capito Strada facendo Però è vero Che nel film La fanno molto romantica Giustamente si sono fermati Nel film la fanno Molto romantica C'è da dire Io sono un po' Ma saremo mica piratando No 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 Dobbiamo fermarci Ma io Bruciamola Bruciamola La convention delle major Loro erano la prima etichetta Hanno venduto più di Universal E quell'anno È chiaro che hanno inventato La pirateria Ma la legge Antipirateria Nasce dopo Quella roba in Italia Quindi vuol dire Fino al caso Eclatante Sta cosa non si muove Quando ruberanno La voce di Annalise Faranno una super hit Qualcuno Dà l'etichetta di Annalise Si sveglierà Deve succedere qualcosa Di eclatante Adesso hanno Tutto di tutti In maniera Non controllata Allora vi dico Una roba che Non metterò nomi Di nessuno Però è una roba Che è successa Nel business Sappiatelo Qualcuno ha già usato L'intelligenza artificiale Nelle canzoni Ok E niente Le canzoni devono uscire Quindi passano Tramite le etichette E l'etichetta Chiama l'artista In questione E gli dice Senti ti stiamo mandando La liberatoria Per la voce femminile Arrivederci E grazie È finita lì E cosa gli devi dire Beh è un po' pazzo Parco 2 L'ho creato io Non c'è liberatoria Però Incredibile Loro pensano ancora Che c'è la voce femminile Ti stiamo mandando La liberatoria Da firmare A chi cazzo La do da firma Che questa roba Sta già colpendo E' già arrivata In faccia All'etichetta Sì La paura Come Come La paura Che prima o poi Verrà regolarizzata Perché per forza C'è la paura Che poi verrà regolarizzata Male Peggiorando ancora la situazione Perché chiaramente Bisogna mettere dei punti fermi Per quello appunto Dicevamo Voi dite Deve esserci il caso Eclatante Deve arrivare Per quello dicevo Sono felice Che la figlia di George Carlin Abbia denunciato questi Perché da qualche parte Bisogna iniziare E quindi Non lo so Ogni ambiente Ha bisogno del suo caso Certo Che è una cosa Che l'aggistratore Non fa mai Io la userò a mio favore Se qualcosa Alla gente non piacerà Dirò che è di un'intelligenza artificiale Non l'ho fatto io il disco Che cazzo volete Neanche lo sapevo Queste intelligenze artificiali Mettono i dischi Sei mesi di pubblicità Alle mie spalle Ieri Pubblicano E' scherzato Ieri in una buca Nelle Marche E' uscito ieri Tutti provo Ho imparato a fare la ricosta In sei mesi Sono diventati Pubblicano i dischi Ma io da qui Quello è l'ingrediente segreto Da qui mi volevo collegare Visto che appunto Adesso parlavamo di pirateria Eccetera Di un argomento Di cui si sta discutendo Cioè si discute già da anni Soprattutto poi Perché poi c'è stato La legge antipirateria Poi però sono arrivate Le piattaforme streaming Che hanno legalizzato Un po' la musica Gratis per tutti Cioè il risultato E' quello In un certo senso Per noi Per noi Gratis per tutti Esatto Perché Cioè non è proprio così E' Una cosa che ho notato Che in questo dibattito Una cosa su cui sono tutti d'accordo Tranne ovviamente I colpevoli Di questa cosa E che Le piattaforme Dovrebbero pagare Gli artisti Decentemente Credo che Questa è la parte Su cui sono tutti d'accordo E pensa che comunque Sebbene non veniamo pagati Decentemente Veniamo pagati tutti Tutti Quindi Ruggero dei timidi Drake Ok I PNL Chi si accolla I diritti Dei dischi Dei cantanti morti Disco Dell'artista morto Che fa due miliardi A qualcuno Vanno questi E sebbene Siano pochi Sono tanti Cioè Per tutti gli artisti Sono tanti i soldi Che loro non hanno Cioè Noi già veniamo pagati poco Da gente Che questi soldi Per pagare Non avrebbero neanche Quelli che ci danno Cioè dici le piattaforme Certo Quanti soldi Hai presente Quanti soldi sono In tutto Anche se sono 0,00039 centesimi A visualizzazione Sono lì per i 150 miliardi Di ascolti al giorno Globali di tutte le canzoni Sulla piattaforma Però il fatto che loro paghino quelli Non vuol dire che loro riescono A entrarci di più Cioè andare in positivo Quelle società nascono in perdita Ok Sono sostentate da sponsor Finanziamenti E gente che fa girare grano Però Non puoi avere un capitale Per pagare tutti Messilmente così tanto Ok 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 Quindi questo Questo è un lato La storia che non pensavo Di sentire Esiste E poi diciamo che Il discorso lì fondamentale Che fa nascere tutta la diatriba È stata un po' la trasparenza Questo però è dovuto Al fatto che il mercato Nasce Lo streaming Nel 2013 14 In Italia aspettiamo il 2015 Prima che effettiva Cioè io mi ricordo Il mio primo disco in major Nel 2014 Mi dicono Spingi YouTube Sì c'è anche Spotify poi Ok Cioè ricordate la YouTube In quel momento lì Il banner di iTunes Esatto Io se non sono sul banner di iTunes Impazzisco Mi è uscito il disco Devo essere sul banner di iTunes Era la cosa più importante Il banner di iTunes Ok Perché era la vetrina Perché compravi Da iTunes Sì è vero Ci è venuto del tempo Senza fare un discorso mondiale Che poi ogni paese Avrà le sue cazzi Facendoti un discorso in Italia Rapportato anche solo Alla mia esperienza Che quindi non è quella Di Albano Voglio dire All'inizio Quando è arrivata Quando è arrivato Il servizio di streaming Era un po' più democratico Quasi no Anche lo spazio Che veniva Cioè ci hanno provato A fare le cose In una certa maniera Poi è chiaro Che quando quella roba Diventa Unicamente Il metro No L'unità di misura Del valore Poi di un artista Perché quanti ascoltatori Mensili hai Quanti milioni Di streaming hai Quello ha fatto in modo Che in maniera Poi piramidale Chiaramente In base a Chi deve andare Chi sta andando Chi va dal nulla Ok Quindi ancora Quella Quell'idea democratica Di fondo C'è Merito praticamente Parlando Chiaramente C'è un po' di meno Ti faccio un paragone Assurdo Però tu pensa La marijuana legalizzata Anche in Spagna Tu vai Ci sono dei club Tu entri E compri la fumata Ti siedi fu Mica legale Tutta una zona grigia Su cui la gente È seduta Da oltre dieci anni Lo streaming È stato legalizzato Da neanche venti Vuoi che tuttora Ad oggi Non ci siano Delle zone grigie Dove la gente Pisce e caga In libertà È normale Ci vogliono cento anni Per levare le zone grigie Da una legge C'è un po' di meno